buona a tutti ragazzi bentornati sul mio canale come promesso siamo all'opening pack e siamo ancora con Crickle Puzza, Cristian e Ermitra, il mitrai, il mitra insomma il nostro gran Agostino questo opening pack useremo questi 2200 fifa points per aprire i pacchetti, nei pacchetti abbiamo la possibilità di trovare, abbiamo la possibilità di trovare e vogliamo trovare vediamo in pacchina Neuer eccolo qua spieghiamo di trovare questo gran portierone, secondo la nostra formazione diciamo un attaccante come Chana Logu, se si dice così, peraltro che Babbaro insieme a Sarà ci potrebbe essere godere ma più che altro il nostro Godin possiamo trovarlo, noi ce l'abbiamo normale lo possiamo trovare così, abbiamo Dekhea e lui ci indica anche De Bruyne giustamente c'è anche De Bruyne che penso sia, se io non lo voglio aprire come cavolo non si apre eccolo qui è veramente forte ragazzi 78 di velocità, guardate, 87 dribbling, 86 tiro, insomma sarebbe un ottimo acquisto come Santi Cazzorra, Amsic, insomma andiamo direttamente a parire il pacchetto ragazzi allora siamo arrivati al punto di apertura, il primo lo apre il più piccolo ragazzi Agostino vediamo un po', vediamo un po' chi possiamo trovare, FIFA points dois, vai con i film, vai, vengilate, vengilate, eseguire guarda, non guardate, vi cazzo, noi non guardiamo skip, skip, lo dico, no non si skipa, non si skip, non si skip, non si skip, non si skip, 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 ok De luce, buona, buona uscide, ne ecci da qua, buona qua, buona giocatore ragazzi e basta andiamo direttamente al prossimo eccoci qua eccoci qua vai vai racconta clicco e puzza vai clicco e puzza vai clicco e puzza vai clicco e puzza vai clicco e puzza e vai affanculo quando è il pietro show name guenda è 86 che non ci diamo i coglioni no 86 86 vabbè andiamo al prossimo speriamo che io avrò fortuna eccoci voi le avuto alaba è uscito un debushi buono leva cosa vuoi con queste mani cosa vuoi queste mani a quello lo apro io vai giù agguero lo apro io non lo schifo no non lo schifo non si schifo perché dobbiamo soffrire insieme dobbiamo soffrire insieme bagliano ma chi lo conosce bagliano io ma quella pianetura rodrico caio caio sembronio ecco e poi forlino forlino forlano non al prossimo va niente ma detto sfiga anche a me questa faccia guarda questo qua come sta avrete sto pacchetto di nuovo alaba vedremo a questo pacchetto di nuovo alaba speriamo che sia buono ancora sicuramente a lui non si era girato fino a questo tra le dici 23 23 l'ucio da culo l'ucio di te attaccante della nigeria ucce briand e brindiam 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 congolo 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 andiamo al prossimo ragazzi passando ancora alaba è il momento alaba si sta portando davvero schifo e schifo chi fa sfortuna aspetta vedono a poi ci sta no ci sta il caso sarebbe un pacchetto romo lo vedi pacchetto romo c'è un pacchetto limitato ne sono rimasti 9 di pacchetti raga maria c'è di sicuro o faccio un euro lo famo insieme però fai a ingeriremo insieme la mia insania io vado vado sui fifa points e tu conferma conferma no no da rica chiudete gli occhi da rica ma la rica ma guardate qua il ilice c'era un pacchetto di cetro ambo ilice gentiliano gentiletti ma tutti per l'italiano ma tutti italiani si ma chiacchiavoli ma che c'era vuoi ma che c'era vuoi pure pure l'allenatore l'italiano andiamo al prossimo e vai a cagare allora ritorniamo a lui con le testimonie un pacchetto romo l'abbiamo aperto insieme è sempre araba anche non l'abbiamo e no è abito e la ooooo la cassette non si dico le parole acide ho detto solo la cassette ragazzi uuuu 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 niente da fare niente da fare durm varsalico chi è quell'altro uuuu 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 siamo vicino l'arrivo ragazzi apriamo l'altro pacchetto apriamo l'altro pacchetto tu cosa cavolo vuoi cosa cavolo vuoi griezmann ragazzi ma pure griezmann se mi arriva griezmann ragazzi anche buono un bel giocatore un bel giocatore fammi venire un cavolo di giocatore attaccante sbisso e le vercuser ma mettiti madonna mia per un attimo ho pensato a lasciare la logo però quello è turco quello è turco la luna cosa buona mille credi ma ci facciamo niente a mille va va vangin che le va vangin che le andammo all'altro pacchetto c'è Lionel Messi ragazzi io spero che te Lionel Messi ci porti fortuna lo spero solo per te se non te più a caccia e ti tiro fuori di casa ti tiro fuori di casa te per colpa di Messi però ora girati proprio con le sedi e me gira pure io e me gira pure io vai se non te vi gira te c'è il tuo pacchetto lo schifo lo schifo lo schifo lo schifo Gomez Gomez come quello che non ci faccio un cavolo c'è proprio ragione mannaggia Sisigno il ritorno di Sisigno ancora gioca questo che è Somas Somas andiamo al prossimo vai ora tocca a Cricco e Puzza che fai? speriamo che è una squadra dell'anno speriamo che è uno buono speriamo che è uno buono vabbè raga mi direi tutto male Andreolli raga manca uno raro ah Diju guarda come rite Diju guarda infatti sia del sorriso Armando Armando andiamo al prossimo pacchetto ragazzi allora Vertoken ragazzi fino a mo' non è mai apparso Vertoken in questo opening pack speriamo che sia la volta buona andiamo a vedere andiamo a vedere Vertoken pensaci ti Vertoken pensaci ti Vertoken pensaci Vertoken 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 io farei un confronto farei un confronto almeno con Pepe Reina che ce l'abbiamo come secondo Pepe perde nel tuffo vince nella presa beh madonna l'invio quanto perde perde nel nei riflessi perde nel veloci perde nel piazzamento cosa ti dico Vertoken va 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 andiamo al prossimo pacchetto abbiamo un partito va abbiamo giocato una partita molto liberata Cricco e Puzza l'ultimo dei 150 ragazzi l'ultimo pacchetto dei 150 crediti ragazzi ragazzi fatelo voi online fate voi premete x andate in giù bravi premete x andate in su ok ora premete x e schippate ragazzi ce la posso oddio oddio c'è il no ma è capo via via c'è rica è molto pacca che non ce lo caga nessuno ma nella mia formazione serve tantissimo E anche Calle Ione ragazzi Questo sia un ottimo Un ottimo acquisto rispetto a quel Hernanes Che abbiamo E andiamo nel prossimo pacchetto Perché abbiamo un compito importantissimo Noi abbiamo un compito importantissimo Ci vediamo a questo pacchetto Allora siamo arrivati Ai due pacchetti da 100 Quindi Sono gli ultimi due Gli ultimi due ragazzi Vai Vai che ce la puoi fare Concentrato fino alla fine Prendiamo quell'X Comunque tu hai coinvolto il pubblico Abbiamo trovato due giocatori Madonna ho visto il cileno alla destra Mi stava emozionario Mi stava emozionario Cosa poteva essere? Sanchez Produs è nato a Lopez E De Ful De Ful È un belgese È un belgino Andiamo all'ultimo pacchetto Siamo arrivati all'ultimo pacchetto con Aguero 100 FIFA Points L'ultima chance Diamo sul sì È voluto un coso No ma è proprio niente Vuole la parte del conto flicker È la loro della webcam Diamo sul sì X Io me la vado il conto flicker Attenzione Lo se ne va Mo esce fuori No regalo Lopez Lopez ci voglio crede Padoin Adesso tu dimmi come si chiama questo Mierzevski Può dire tutto veloce Mierzevski Bravo Ok Andiamo a vedere come è andata alla fine la formazione finale Andiamo Allora eccoci qua ragazzi Si chiama la formazione finale Come possiamo vedere abbiamo messo l'innesto di Kare Io l'ho trovato nel pacchetto Insieme a Bacca qui davanti Abbiamo visto che contro temerici Radica quasi su tutto ragazzi Ma in più In più abbiamo un nuovo innesto che è qua Il nostro Koke ormai È ottimo centrocampista E speriamo che faccia veramente bene Intanto la valutazione va a 81 con l'intesa 80% E andiamo a vedere perché abbiamo fatto anche un altro acquisto Ed è Ed è Kovacic Ragazzi Del Real Madrid È nel complesso Ha dribbling Passaggi E velocità E arriviamo dalla Foresta Perde nel tiro E nei passaggi Da Crico E il Foresta Pussa Cristian E da Ermitra Agostino E dal buon Ulele Un bacione Ci vediamo Allora Ciao 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 Ciao